carissime buongiorno allora appena arrivato questo da fracomina perché il grosso diciamo già stato consegnato ma arriveranno altre piccole spedizioni con il completamento della collezione e niente poche storie apriamo subito e vediamo che cosa c'è anche se io ho già letto la bolla e qualcosina immagino che cos'è questo? io giuro non lo so non mi ricordo giuro che non mi ricordo vabbè adesso scopriamo subito l'arcano allora ah carino allora questo è un twin set quindi come vedete sopra abbiamo un semplicissimo golfino la coreana nero però a parte che i bottoncini sono a forma di rosa in un color metallo brunito e già questo mi sembra abbastanza una chicca man mano che noi andiamo ad aprire i bottoncini scopriamo quello che c'è sotto e di sotto abbiamo la canotta in pizzo davanti leggermente trasparente e dietro in tessuto unito e sopra il cardigan è un completo che si vende tutto insieme delizioso su qualunque gonna fantasia su qualunque jeans su quello che volete molto molto carino e niente è qua guardate il bordo della canotta come bello cioè quando per esempio fa contrasto su un jeans o su un pantalone più chiaro o di un colore insomma che che spicca questo è veramente veramente particolare questo completo dopo ve lo faccio vedere indossato perché è veramente bellino ed è separato e non è cucito quindi comunque si può portare la canotta separata la giacca da sola cioè il golfino da solo o ovviamente insieme qui c'è qualcos'altro di molto bello questo è un abitino delizioso e ve lo avevo segnalato già nella presentazione questo è un abitino molto romantico e molto rock allo stesso tempo allora manichina corta in pizzo davanti in pizzo non foderato ma tanto va comunque portato con una canotta o con qualcosa sotto sotto seno tagliato con l'inserto sempre nella stessa ecopelle dei leggings che vi ho già fatto vedere l'altra volta quindi un'ecopelle elastica con un disegno tipo marmo e la gonna in un altro tessuto ancora sempre elasticissimo quindi molto molto flessibile diciamo bordata con il pizzo di lana in fondo un abitino bon ton che diventa subito un abito molto rock se lo abbiniamo a delle calze a rete e a dei biker che ovviamente se vogliamo rimanere in un total look bon ton ci mettiamo una calza scura una bella decoltè col tacco alto e siamo a posto una giacca eccetera se invece vogliamo andare a smitizzarlo a smorzare il tono elegante a farlo diventare un po più rock un po più sfizioso un po più impertinente ecco che qui calza rete biker e sopra un bel cardiganone buttato su e a quel punto cambia completamente tono assume un'area un po più grunge e un po più ironica ognuno faccia come preferisce però questo è un little black dress secondo me fantastico un passepartout che vi fa compagnia tutta la stagione autunno inverno e che si può sfruttare tantissimo in tutte le occasioni cioè dal pranzo di natale alla serata con le amiche alla sera di capodanno potete fare un po quello che volete se riesco a non farmi distruggere da scatoloni e altre cose varie ho qui una delle maglie più belle della collezione fraconina ma questa è veramente spettacolare arrivo a farvela vedere da vicino sono prigioniera dei vestiti ahimessi da tanto tempo allora collo con perle brunite scure e strass bordato nella parte davanti fantasia semi mimetica un po particolare con anche fiori insomma una fantasia un po particolare un po strana in un tono su tono di neri e grigi quindi diciamo ha un effetto anche un po sfumato a me piace molto e manica in pizzo grande cioè un pizzo non leggero ma un bel pizzone tosto che comunque copre scalda ovviamente si può portare con una giacca o si può portare da solo il dietro in un bellissimo jersey autunnale quindi con un peso giusto per l'autunno e per scaldare un po stupenda io non ho altre parole per questa maglia la trovo veramente meravigliosa ovviamente l'ho presa anche per me e ovviamente non vedo l'ora di indossarla veramente fantastica mi piace tantissimo allora per quanto mi sembra di aver capito ok per quello che ho capito sono qua seduta sul niente con la sedia d'aria va bene per quanto ho capito lo scatolone si è esaurito sono arrivati questi tre articoli che sono comunque tre modelli molto belli molto particolari adesso li fotografo e poi li aggiungo all'album oh mamma mia adesso li fotografo li aggiungo all'album e così dopo li potete vedere anche in fotografia indossati ciao bimbe